a proposito fantoscia ma lei a quale partito ha tecerato? sono iscritto a un partito di qui che non conosce ma in che senso? ma ce lo descriva? non è facile da descrivere come non è facile da descrivere? è un partito voglio dire qui ma non è come fosse un partito avanti c'ho tutto un coro è lungo la base? si cioè da dietro la base da dietro? no però girandolo girandolo da dietro è come fosse un... come... come... scusate... i verdi no è tutto... ho un tubo in pratica è un... ma per chi non ci fa vedere la tessera fantoccia? ecco la mostra no? faccio vedere la tessera? ciao cosa l'on... è... ehm... ecco quello è quello... quese è evidenti che ci salve del loro praticamente... non è... non è... non è... è il mio... è il mio... non è la tessera della... quello lì... non è chiara non è chiara... che lei stai vedendo la campagna? oh cosa state vedendo? si vede la tessera del partito? Si quella qui ha tesorato Fantozzi E la mi fa vedere Vuole vedere? Sono stata anche comunista Il PD aiuta Non ce l'ho fatta e chiedo scusa di non avercela fatta